la sorella di stefano sulla stampa mi sento di condividere il dolore di morisi ma sarei ipocrita se non ammettessi la rabbia a suo tempo avevo chiesto le scuse a matteo salvini per i suoi attacchi a me alla mia famiglia e da stefano ovviamente quelle scuse non sono mai arrivate la sua risposta alla sentenza pronunciata dalla corte di assise di roma con la quale venivano condannati responsabili del pestaggio mortale di mio fratello è stata che la droga fa male in passato in campagna elettorale aveva persino detto che ilaria cookie fa schifo le sue continue prese di posizione ai miei danni hanno scatenato la bestia che ha sbranato la mia famiglia intera facendo leva sui sentimenti più bassi e biechi che può provare il genere umano lo scrive ilaria cookie in un intervento pubblicato dalla stampa sto parlando del sangue della mia famiglia versato dal momento in cui il 22 ottobre di 12 anni fa è stata costretta a riconoscere il cadavere di stefano all'obitorio di piazzale del verano a roma prosegue la politica non è il mio posto questo perché sono incapace di astrarre l'immane tragedia che ha distrutto le nostre vite per avventurarmi in analisi politiche che non mi competono sono incapace di perdere di vista il fatto che la bestia si è cibata di persone normali che come me sono state travolte da tragiche vicende giudiziarie infliggendo loro spietata dolore che si è aggiunto ad altro dolore scrive cookie nonostante tutto questo io mi sento di condividere il dolore di luca morisi come essere umano che è stato costretto a rivelare tutte le sue fragilità non nutro sentimenti di odio vendetta nei suoi confronti sarei tuttavia ipocrita se non ammettessi la rabbia che provo nei confronti di colui che della bestia ha saputo fare la sua forza violenta cinica e distruttiva nel sacro nome del consenso cieco e ostaggio delle facili suggestioni liberatorie dalla paura matteo salvini questa lo riconosco è la mia debolezza conclude grazie a tutti grazie